Nella settimana TGR dedicata al tema Italia 2.0 parliamo di un sito internet nato per facilitare il lavoro delle aziende. Claudio Ciccarone. In tempi di crisi investire il proprio denaro in attività commerciali è un momento da considerare con grande attenzione. Molti possono essere vantaggi ma anche le difficoltà e i rischi. Per essere vicini agli imprenditori che intendono dare impulso all'economia, Union Carme e Campania, l'associazione che conosce gli enti camerali di Napoli, Salerno, Caserta, Vellino e Benevento, ha finanziato il portale www.marketingterritorialecampania.it, un sito nato per essere vicino ai cittadini interessati a far nascere una nuova impresa, ma che facilita anche le relazioni tra operatori economici già presenti sul mercato. Facciamo un esempio. Io ho intenzione di aprire un'attività di camiceria a Pompei. Questo sito perché mi può essere utile? Ecco, il portale gli dà la possibilità di immediatamente sapere dove sono i miei fornitori dell'indotto. Mi servono i bottoni, verifico in un'area particolare che tipo di attività ci sono, tutte le imprese, tutte le industrie che producono dai bottoni ai tessuti, ai filati e qualsiasi altro settore che può essere interessante da export da logistica in una determinata area. Tutto questo geolocalizzato. Non mancano dati e informazioni di tutte le imprese operanti in Campania, il loro fatturato sia per l'import che l'export, ma anche il numero degli occupati e per il turismo i flussi aggiornati di arrivi e presenze. Una mappatura completa e ufficiale da utilizzare nella consapevolezza che per investire in sicurezza non è necessario solo tanto denaro, ma anche informazione e preparazione.